È stata una partita dove ci tenevamo a concludere questo campionato in casa nel migliore dei modi. Penso che sotto il punto di vista tattico e tecnico non abbiamo sbagliato quasi nulla. Penso anche che il mister sia contento di questo. Di solito cambiare a dicembre non è mai facile. Purtroppo all'inizio ci è andata male. Piano piano stavamo carburando, poi abbiamo avuto delle assenze importanti tra infortuni, squalifiche e tutto. Diciamo che al completo non ci siamo mai stati tutti. Le abbiamo giocate tutte per vincere, anche quando avevamo la certezza di non poter partecipare al play-off. Le abbiamo giocate tutte. Purtroppo alcune le abbiamo perse, ma noi andiamo sempre in campo per vincere, a prescindere. Sono contento per i due gol, ma sono ancora più contento della prestazione della squadra, perché qui si sta bene, sto bene e spero di continuare questa avventura. Grazie. 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 Grazie.